Con la fase 2, soprattutto a seguito delle nuove aperture del 18 maggio, in città è ripartita la Movida. Il centro storico è tornato a pullulare di gente, ma anche di tanti incivili. In questi giorni bottiglie, cicche di sigarette e altri piccoli rifiuti sono stati infatti abbandonati sulle nostre strade e piazze. Ma l'amministrazione comunale non ci sta. Con un'ordinanza il sindaco Michele Abaticchio ha fatto scattare la guerra agli sporcaccioni. Chi verrà sorpreso a gettare rifiuti per strada subirà una sanzione amministrativa d'importo compreso tra i 25 e i 500 euro. Stessa sorte toccherà anche a bar, pizzerie, ristoranti e distributori automatici che non rispetteranno il divieto di vendere bevande in bottiglia o contenitori di vetro. I pubblici esercizi, inoltre, dovranno essere dotati di raccoglitori e contenitori portacenere. Ho chiesto all'SV di dotare i locali commerciali del centro storico di raccoglitori mirati al ridosso del locale. La scelta deriva dalla voglia di impattare meno sotto il profilo estetico. Una piccola collaborazione richiesta dai commercianti chiedendoli di mettere dei posaceneri al supporto del locale è stato un piccolo sacrificio ulteriore che gli abbiamo richiesto e che sicuramente sarà conspensato delle agevolazioni che gli stiamo programmando di dare. Tra le ordinanze firmate dal primo cittadino in questi giorni, anche quella di riapertura della villa comunale. Da lunedì il nostro principale parco pubblico è tornato fruibile dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Per accedervi però è necessario attraversare dei dissuasori, installati per contingentare gli ingressi e per porre un freno al traffico di bici tradizionali ed elettriche. Di quello siamo soddisfatti perché comunque la lotta alle bici in villa comunale è una lotta che viene non so da quanti sindaci fa. L'idea di posizionare tornelli, proposti dal comandante della Polizia Municipale e raffinati dagli assessori Mangini e Bonasia, era in realtà già stata studiata a Palazzo Gentile. Per l'emergenza Covid-19 però si è potuto accelerare la pratica. Per diversamente abili e carrozzine è stato invece predisposto un altro accesso, monitorato da una sola persona. L'esperimento, come confermato da Michele Abaticchio, sta funzionando. Pensavo qualche reazione un pochino più violenta da parte dei soliti noti, in realtà sono semplicemente allontanati. Grazie a tutti.